non so cosa sia ma scommetto che è fantastico 30 secondi alla generazione dei minion minione in azione potrei essere un simbolo ma non so di cosa dicono che sono di petricite io dico che sono ma adoro il modo in cui si schiaccia è difficile essere finalmente un degno avversario non so un nemico è stato ucciso non sono mai stato un gran lettore un alleato è stato ucciso ora cosa rompo? non tornerò sul piedistallo il branco cresce queste porte sono troppo piccole attacca! troppo facile troppo facile non so 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 ma se ho preso quello grosso e indietro pugno a martello ma quello l'abbiamo perso andiamo ad affrontare qualcun altro non so perché la vita mi scende ma sono felice che l'abbia fatto un armerato è stato ucciso un armerato è stato ucciso un armerato è stato ucciso la vita di queste creature è così banale dormire è un po' come morire a 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 Quanto sono stato vinto? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.